Saluti, cittadini liberi o schiavi. Io sono Silla e benvenuti in questo nuovo video sulla letteratura latina. Purtroppo, in un momento nella vita, uno brutto, ma molto molto brutto, la maggior parte di noi deve fare i conti con questo blocco di cose da studiare. E quale miglior modo di farlo? Con i riassunti, ovviamente. Mettetevi comodi e iniziate con me questo viaggio nella storia tra le più grandi personalità della letteratura latina. Parleremo di Gneonevio, ma dopo è un nome difficile, poeta e drammaturgo romano che combatté durante la prima guerra punica tra il 264 e il 241 a.C. Non solo uomo politico, ma grande letterato, impiegato nelle contese politiche e privo di protettori, rappresentò un caso più unico e raro nel quadro culturale del suo tempo. Proprio di protettori, ragazzi, poteva morire da un momento all'altro. Che culo che non sia successo, nooo. Il suo grande impegno politico traspare nella sua opera Debellum Poenicum. La guerra cartaginese, insomma. Dai frammenti che ci sono rimasti, si vede come Gneonevio cantasse il viaggio di Enea da Troia all'Italia. Parlando anche dell'incontro a Cartagine tra Enea e Didone. Il poema è scritto in versi Saturni, come Lodusia, sì, tutti lo stesso modo di scrivere, ed è stato diviso in sette libri nel secondo secolo a.C. da Gaio Ottavio Lampadione. Il testo è sperimentale e Nevio tende a uno stile semplice ma efficace. L'innovazione di Nevio fu nella produzione dei testi teatrali, con l'introduzione della fabula Pretexta, che è la tragedia ambientata a Roma anziché in Grecia. Ne conosciamo due titoli, Romulus o Lupus e Clastidium. La prima è la storia della fondazione di Roma, mentre la seconda è la celebrazione della battaglia di Casteggio, avvenuta nel 222 a.C., vittoria ottenuta contro i Galli da Claudio Marcello. Temi innovativi e bravo Nevio! Tra le sue tragedie principali troviamo Licurgus, il racconto di un re che voleva impedire e reprimere il culto del dio Dioniso. Nel 206 a.C. Nevio viene condotto in prigione con l'accusa di aver composto Malacarmina, qui scriverà due commedie, facendo ammenda delle offese, e poi verrà scarcerato e costretto all'esilio, dove muore a Utica nel 201 a.C. E anche la storia di questo scassa toga è finita, io spero che vi sia piaciuta e noi ci vediamo alla prossima settimana con un altro video, ciao!